Sicuramente il lavoro presentato oggi è un lavoro importante, quello dell'osservatorio, che io credo sia necessario istituire a livello nazionale, riferendosi a una mia norma del 2020. Questi dati ci consentono, sono importanti perché ci consentono di analizzare e capire cosa avviene nel mercato del lavoro, ad esempio un'importante evoluzione verso il tempo indeterminato, il contratto a tempo indeterminato piuttosto che quello determinato nel 2023, piuttosto che una diminuzione dell'apprendistato per il quale ci possiamo anche chiedere quali sono le motivazioni e come intervenire. Quindi fotografare il mercato del lavoro, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, il fatto che ci sia una percentuale di contratti depositati e utilizzati che non fanno parte dei maggiormente più rappresentativi in Italia, insomma ci dà la possibilità di intervenire. Il confronto avvenuto oggi anche con le parti sociali, le parti datoriali e sindacali è importante perché ci consente di costruire politiche attive del lavoro sul territorio e di monitorare qual è la sua evoluzione e quindi di anche investire in modo più preciso, più puntuale, più efficiente ed efficace.